un saluto da devi oggi ragazzi si riprende a registrare i video le vacanze sono terminate e come detto nell'ultimo video vi avrei mostrato le corazzate tedesche ovviamente vado ad iniziare dalla primissima la nassau livello 3 tedesco poi andremo a vedere piano piano tutte le altre non vi preoccupate non vi sono non mi sono scordato per quanto riguarda la montana che devo mostrarvi allora andiamo a vedere oggi il livello 3 livello 3 che si presenta praticamente come una cavaci giapponese vediamo che sono praticamente identiche non cambia assolutamente nulla sono molto molto simili questa è la cavaci giapponese questa qui è la nassau tedesca vediamo un pochino le caratteristiche 35.400 punti artiglieria 66 avremo dei cannoni da 283 con un danno minimo con le he di 3.200 massimo 7.200 tempo di ricarica 22.2 secondi poi abbiamo una possibilità di incendio pari al 19 per cento l'antiaerea è davvero spettacolare qualche pistola d'acqua l'hanno montata la manovrabilità 20 nodi 510 per effettuare un circolo completo 11.2 cambio di direzione del timone per quanto riguarda il mimetismo saremo spottati a 10.4 da qualsiasi nave avversaria e da 8.3 chilometri da qualsiasi aereo avversario la nave come potete vedere è completamente sbloccata direi che ci siamo piccolo stacco e ci vediamo in partita da quanto non lo dicevo sono emozionato perfetto ragazzi sono pronto a mostrarvi una partita allora vediamo un pochino abbiamo fondamentalmente tutte navi tedesche corazzate andiamo verso il settore io vorrei andare verso il settore di alfa però solitamente tutti vanno su charlie quindi sono un attimo indeciso vediamo un pochino c'è quello che mi segue quello comunque poi abbiamo due porta aerei un'americana una giapponese due americane poi via e via tutte le altre navi allora veniamo un pochino no questo sta già andando da tutt'altra parte allora no mi sa che è charlie andiamo su charlie dai però io volevo far vedere qualche hit qualche kill eccolo la va bene va bene andiamo verso a questo punto non so perché ci sta l'incrociatore che avanza il cacciador pelinieri che sembrerebbe andare sul punto di charlie a questo punto sul punto di alfa scusate a questo punto proviamo ad andare su alfa dai anche se siamo soli non fa nulla no anche l'incrociatore sta girando no niente tutti su charlie e qui cosa fate può essere che non ci sia nessuno su charlie però può essere che ci sia tutto il team nemico magari tutto il team nemico ecco allora 1 2 3 4 vanno su charlie però se c'è una corazzata su alfa 1 contro 1 sinceramente mi piacerebbe trovare però lì abbiamo un problema che si chiamano ci sono tutte le praticamente le aereosiduranti che arrivano verso di me questo è un problema molto serio molto molto serio ok vanno sulla terzechi cerchiamo di stare insieme alla ecco poi fa una bruttissima fine perché l'anti aerea inesistente si fa sentire allora lì c'è però la puma una corazzata dopo tre minuti ancora nessun colpo sparato però lì c'è la kaiser c'è una kaiser ecco forse dobbiamo andare su quella kaiser che è sul punto di bravo non so per quale motivo però cerchiamo di approfittarne intanto i ieri nemici cadono nell'acqua per la nostra felicità allora vediamo un pochino 12 chilometri noi abbiamo solo 10 diciamo che quel settore di alfa è leggermente pieno di pericoli quindi lo evito ok andiamo sul kaiser anche perché allora c'è anche la sinluis il caccio del peliniere la nostra derzechi è completamente da sola però di certo non è che posso aiutarla io allora qui cosa abbiamo perso la wakatake dai dai a questo punto mi verrebbe di andare a cappare il punto di bravo allora 12 chilometri per il momento gameplay emozionante lo so lo so abbiamo perso la suppongo si la derzechi che era su alfa andiamo sinistra ok perfetto forse possiamo sparare tra poco dai 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 fammi sparare fammi sparare brutta inclinazione brutta molto brutta vediamo se lui mi sa se è accorto all'ultimo brutta 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 inclinazione della sua nave quindi giustamente colpi vanno a rimbalzare allora tu spari le h e io sparo le ap vediamo se adesso mi concedi un buon tiro 5.004 finalmente mettiamo a segno qualcosina siamo a 7 chilometri dalla nave nemica destra siamo abbastanza sicuro che la st louis possiamo andare anche sulla st louis vediamo però allora vai così 4.000 molto bene destra destra come vedete con questa mostrando solo praticamente il muso della nave andiamo ad assorbire molto bene i colpi allora io vorrei lanciare però un paio di cannonade su quella st louis ci prendiamo qui un colpo dalla kaiser vediamo se riesco non so se ok sono passati 6.000 buono 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 molto buono direi di scappare perché comunque c'è la kaiser che avanzano incendio lo accettiamo allora vediamo se la st louis fra poco mi fa vedere il lato destro nel frattempo su quella sulla parte destra della mappa si stanno massacrando abbiamo perso qualcuno allora vediamo un pochino la st louis io vorrei andare in mezzo a questi due isolotti adesso qui ci andiamo a prendere un pochino di colpi però ce la capiamo dai ce la capiamo stiamo bruciando però va bene la st louis eccola lo sapevo 3.000 3.000 3.000 3.000 un 3.000 che grida vendetta vi di vendetta dovevamo fare di più cerchiamo di entrare in copertura perché qui la nave diciamo che sta per esaurire i punti vita allora lì c'è la kaiser via 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 dobbiamo recuperare poi poi recuperiamo 13 secondi ancora di sofferenza ok un minuto però poi decido che è il momento di di levare le fiamme allora per il momento 20.000 punti sono alla fine non sono bruttissimi magari potevamo fare di più sulla st louis però chi se ne frega allora cerchiamo comunque allora allora eccolo no kaiser fuori eccola la st louis la st louis se facciamoci trovare pronti vediamo 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 eccolo più a destra più a destra e poi comunque viene brutalmente eliminato ok allora allora no eh si mi guardano a me mi guardano a me e anche abbastanza arrabbiati io metterei tra poco le le h e prossimo tiro dai 6.800 molto buono questo colpo molto buono peccato perché mostrano il lato però non so se riesco a no quella è andata ok bravo spara l'isola ci sono eccoli 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 ok noi andiamo ad evitarli quell'altro non lo so sinceramente andiamo un po' di h e perché ovviamente adesso lui va a virare vediamo eh questo fa male eh due incendi andiamo a fare punti fa molto male questo mannaggia ha spento ha spento le candeline stava bruciando molto bene 31.000 danni quasi 32 vediamo se riusciamo a fare un altro po' di danni su quella kaiser dovevamo mettere le hp però diciamo che non c'è il tempo materiale per cambiare ormai spariamo con le h e ok l'ho mancato? mi sa tanto che l'ho mancato non so come però l'ho mancato allora la partita non è vinta ancora eh non è ancora vinta non è ancora vinta però ricordiamo alla fine che abbiamo una nave di livello 3 contro le navi anche di livello 4 quindi stiamo facendo questo penso una buona figura una figura accettabile vai 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 destra 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 ci prendiamo il lusso anche di affrontare navi di livello superiore destra ok questo è buono molto bene eccolo 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 lui non mi sta guardando vediamo se riesco a a castigarlo però volevo più lato volevo volevo più lato 2.007 2.007 dai comunque sono pur sempre punti intanto la la brua va molto bene sì se non ricordo male la brua è davanti non vorrei dire una cavolata cavolata allora nel frattempo qua potevo mettere anche le HE però vediamo un pochino se riesco a cambiarle a cambiare a cambiare munizioni vai così no 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 rimbalzato rimbalzato giustamente giustamente rimbalzato allora siamo tra l'altro catturando il punto di bravo allora proviamo a dare fuoco a quella nave maledetta vai 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 ormai lui sta pensando a sparare altre navi quindi possiamo approfittare c'è un'occasione praticamente allora vediamo 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 non vorrei colpire il nostro isolotto qui di fronte destra destra mannaggia mannaggia cercavo l'incendio cercavo l'incendio non è arrivato non è arrivato c'è la porta aerei tra poco in teoria devo sparare alla porta aerei anche perché vediamo se mannaggia sono con le h e sono con le h e maledizione mettiamo le ap dai vediamo se riusciamo a prendere la porta aerei un incendio un incendio duemila duemila stai non sta bruciando maledetto 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 dai 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 destra 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 ma dove ha lanciato i siluri incredibile pensavo di essere morto invece spare i siluri e non so dove meno male dai sono stato fortunato tanto qui il tiro nell'acqua molto bello allora 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 proviamo a edda non dar fastidio fatti affondare 1100 40.000 punti finalmente spariamo con un solo cannone attenzione eh con un solo cannone poi ovviamente non vanno a segno i colpi ma questo è un altro discorso allora arrivano no sono ormai aereo sicuranti che vagano la kaiser decide di ritirarsi non può fare altro mi mette a segno un bel 2007 allora c'è la kaiser e ok veniamo un pochino no è rimasta solo la kaiser bene solo la kaiser diciamo che abbiamo perso un po' di tempo andando sul lato di sinistra però alla fine era un 50% se fossero andati o su alfa o su charlie quindi ci è andata male il respawn diciamo che non era bello considerando poi la velocità molto molto ridotta della nave capirete bene che non è facile allora proviamo comunque magari a distruggere qualche aereo con le nostre pistole d'acqua lui ah ecco di no mi stai ancora guardando mi stai ancora guardando e questo il 6000 l'hai sentito eh il 6000 l'hai sentito e anche il 2000 vediamo ok 1100 niente non riesco a prendere la kill zero kill zero kill e va bene così vediamo un pochino quello che siamo riusciti a guadagnare nella partita 79 mila credit abbiamo preso anche uno riconoscimento all'ultimo millequattro di esperienza 48 mila danni 48 hit tre basi difese una base catturata un colpo di artiglieria tre incendi team score siamo arrivati quarti pensavo peggio quarti comunque è un buon risultato rapporti dettagliati potete vedere i danni messi a segno alle varie navi nemiche crediti guadagnati come detto saremmo andati negativo di 28 mila di 28 senza premium ma ricordo che ho i consumabili premium bene ragazzi il video finisce qui vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdere dei suoi aggiornamenti e noi ci vediamo alla prossima ciao